In questa cultura non abbiamo mai avuto un'autorità per diffondere il processo spirituale, perché questa è l'unica cultura sul pianeta senza una sua religione propria. Quindi l'induismo è essenzialmente la cultura che è nata dal fiume Indo. Si chiama hinduismo. Quindi è un'identità geografica e culturale. Non è mai stata un'identità religiosa. È stato solo quando delle persone sono venute da fuori, con idee concretizzate di religione. Hanno dovuto dare un nome anche a te. Allora noi siamo questo, voi cosa siete? Noi siamo dappertutto. Non riuscivano a capirlo. Dovete essere qualcosa. Nello stesso posto, un milione di cose esistevano insieme. Nella stessa casa, se sei in una famiglia di cinque, cinque di voi possono adorare cinque dei differenti e non avere assolutamente alcun problema al riguardo. Non pensavamo neanche che fosse un problema, finché non sono arrivate delle persone da fuori e ti hanno detto il nostro Dio e il tuo Dio. Fino ad allora non pensavamo neanche che fosse un problema. Potevi adorare questo Dio qui, io potevo adorare quel Dio là, un altro poteva star seduto con gli occhi chiusi, un altro poteva cantare, un altro poteva danzare. Ma pensavamo comunque, va tutto bene, ognuno può fare le proprie cose. Quindi non c'è mai stata una religione in questa terra. Abbiamo 33 milioni di dei e dei. Questo accadeva quando la nostra popolazione era di 33 milioni. Ora siamo 1,2 miliardi. Ma abbiamo perso la nostra creatività. Sì. Perché delle forze esterne sono arrivate, in particolare forze occidentali sono arrivate, e hanno cominciato a farci vergognare dei nostri dei. Troppi dei. C'è un solo Dio, come se fosse un'idea superiore. Se puoi crearne uno, perché non puoi crearne un milione? Non hai visto il tuo unico Dio, vero? Se puoi crearne uno, perché non puoi crearne un milione o un miliardo? È solo una questione di creatività. Non è così? Quindi questo vuol dire che niente oltre me esiste? Questo sarebbe un modo stupido di concludere. Mentre stai seduto qui, sai che non hai creato te stesso. Sì o no? Puoi digerire il tuo cibo oppure la digestione accade? Accade. Stai respirando oppure il respiro sta accadendo? Stai facendo battere il tuo cuore oppure sta battendo? Posso continuare. Al tuo fegato, i reni, ogni cosa. Persino la milza. Persino la cosa più minuta nel tuo corpo. Non la fai funzionare tu, non è così? Sta accadendo. Stai facendo ruotare il pianeta o sta ruotando da solo? Non stai facendo niente. Non stai facendo niente, solo piccolezze. Tutto ciò che è vitale viene fatto e basta. Sì o no? Tutto ciò che è vitale per la vita viene fatto. Devi solo stare seduto qui e goderti la rotazione. Per questo, quanti problemi. Quindi, questa è una terra che ha chiaramente capito che Dio è una nostra creazione. Questa è la ragione per cui in questa cultura Dio non è la meta. Mukti è la meta. La liberazione è la meta. La libertà massima è la meta. Dio non è mai la meta. Sì o no? Non ti piace? Perché hai dimenticato. Altrimenti Mukti è la meta, non è così? Cosa significa Mukti? Liberazione. Libertà da ogni cosa. Compreso Dio. Stai usando Dio come un trampolino, se ne hai bisogno. Puoi crescere con Dio o senza Dio. Questa è l'unica cultura sul pianeta in cui in nessuna delle nostre lingue indiane esiste una parola per un eretico. Perché non abbiamo mai pensato che qualcuno fosse un eretico. non abbiamo mai immaginato che ci potesse essere qualcuno così. Perché non avevamo nessun sistema di credenza stabilito. Ognuno può fare le sue cose. Il processo è più pluralistico e democratico per migliaia di anni. Quindi, i movimenti spirituali sono stati iniziati per la liberazione umana. Questo non riguarda Dio. Nessuno sul pianeta, nessun essere umano è interessato a Dio. Per favore, capisci questo. Le persone sono interessate a Dio perché credono che sia una soluzione per la propria vita, non è così? Sì o no? Tu pensi che se vai verso Dio, tutti i tuoi problemi se ne andranno. I tuoi problemi di salute, i tuoi problemi mentali, i tuoi problemi tra moglie e marito. Puoi passare un esame senza studiare. Puoi... Puoi aver successo negli affari senza lavorare. Così tante cose. Cose incredibili. Ma riguarda te, non è così? Sì o no? Riguarda te. Quindi, quando riguarda te, eravamo abbastanza diretti da affrontarlo direttamente. Dicevamo, questo riguarda la nostra liberazione, riguarda il nostro benessere, riguarda il nostro benessere massimo, non solo il nostro benessere immediato. Quindi, questa è una cultura che lo vedeva in questo modo. Quindi, è una complessa serie di movimenti spirituali. Molti sono scomparsi, sfortunatamente. Nel sistema yogico, si dice che quando qualcuno chiese da di yogi, quante vie ci possono essere? Lui disse, se usi il tuo sistema e vai, ce ne sono solo 112. Ma se vai oltre il tuo sistema, così tanti atomi esistono nell'universo, così tante vie di eccesso esistono. Quindi abbiamo dato la libertà di creare il tuo proprio Dio. C'è qualcosa che si chiama ista devata. Puoi scegliere il tuo Dio. Se non te ne piace nessuno, puoi crearne uno. Sì. All'improvviso ti piace l'albero a casa tua, puoi iniziare a venerarlo. Nessuno in questo paese penserà che è buffo o strano. Da qualsiasi altra parte, se lo fai, sarebbero stati bruciati vivi, ma ora ti tirerebbero pietre attraverso la recinzione. Perché pensano che sei un eretico, stai venerando un albero. Ti piace una pietra nel tuo giardino, puoi cominciare a venerarla. Nessuno pensa ci sia niente di strano a riguardo. Va benissimo. Perché non c'è un singolo atomo nell'esistenza senza la mano del Creatore in sé. Ogni cellula nel tuo corpo sta compiendo un'attività complessa. Non per merito tuo, non è così. La fonte della creazione funziona attraverso ciò. Ogni atomo, tutto questo complesso movimento di protoni, neutroni, elettroni sta accadendo. Lo stai facendo? La mano del Creatore è alquanto in tutto ciò. Quindi ogni atomo è una porta di accesso verso ciò che sta oltre. Grazie a questo, così tanti tipi di movimenti spirituali sono accaduti. È un peccato che così tanti siano scomparsi negli ultimi cento anni. Così tanti. Ciò nonostante la varietà è fantastica. Se tu... Quanti di voi sono stati imposti come kumbh mela e cose del genere? Sei stato a kumbh mela? Quella grande che è accaduta ad Allahabad? Ci sei stato a quella? Dopo 144 anni accade. Se ci vai e osservi, ci devi andare. Vedrai l'India, ok? Un'India di un'altra dimensione che oggi la popolazione istruita nel paese sta perdendo completamente. È incredibile, incredibile ti dico. Le persone ci mettono il loro ultimo penny e viaggiano da qualsiasi luogo solo per essere lì per due giorni poi andarsene. Sto dicendo che è quel livello di persone per cui cento rupie significano. Quello che per te significerebbe un milione, questo è quanto significano cento rupie. Quel tipo di persone mettono tutto quello che hanno, vengono con le loro famiglie solo per essere lì. Perché qualcuno ha detto loro che in quel giorno se ti immergi otterrai mukti. Non che vedrai Dio. Non che Dio verrà e ti darà una montagna d'oro. Otterrai mukti. A tutt'oggi, 800 milioni di persone in questo paese cercano attivamente la liberazione, consapevolmente o inconsapevolmente. È una cosa incredibile. Da nessun'altra parte sul pianeta accade un fenomeno del genere. Che ci siano esseri umani che anelano ad andare oltre il proprio attuale livello di esistenza, consapevolmente. In nessun altro posto è caduto qualcosa del genere. Quando Mark Twain visitò l'India, trascorse due mesi e mezzo, tre in India, c'è un libro sui suoi viaggi lungo l'equatore. Ha viaggiato intorno al mondo. Quindi ha detto, qualunque cosa che possa mai essere fatta, dall'uomo o da Dio, è stata fatta in questa terra. Questo è uno dei migliori complimenti che l'India abbia mai ricevuto. Ed è così. In termini di comprensione dei meccanismi di come un essere umano è fatto e di ciò che ne possiamo fare, da nessun'altra parte nessuno ha osservato ciò con la profondità con cui lo si è osservato in questa cultura, da nessun'altra parte. Non dico questo essendo di parte perché sono nato in India, per cui devo buh buh buh. Questo non riguarda il tuo essere indiano o non indiano. Questo riguarda una profondità di conoscenza che è andata di traverso, sai? Ha perso le proprie tracce e le perde lentamente. A meno che non la rimettiamo sulla traccia giusta, l'umanità perderà qualcosa di notevole. Perché oggi sappiamo come chiamare al telefono e parlare con qualcuno in America, ma non sappiamo ancora come comunicare con questo. La nostra tecnologia di comunicazione, la tecnologia dell'informazione ha raggiunto l'apice. Ma che informazioni hai sulla natura della tua stessa esistenza? Nessuna. Sappiamo come fare molte cose. Possiamo andare sulla Luna, ma non sai come essere semplicemente qui. Quindi questa tecnologia del benessere interiore è stata esplorata con assoluta profondità. Questa conoscenza non dovrebbe andare perduta. Solo se questa conoscenza fiorisce su questo pianeta, il benessere materiale ed economico si tradurrà in benessere umano. Altrimenti avrei ogni cosa e non avrei niente. Solo per darti un esempio, cosa accade in India adesso. L'anno scorso, 2011, quando è arrivato Diwali, lo chiamiamo Di Pavali, quando Di Pavali è giunto nel sud dell'India, l'equivalente di 1.270 milioni di rupie di alcol sono stati venduti nel Tamil Nadu in un giorno. Di questi, l'equivalente di 210 milioni di alcol sono stati venduti in una cittadina, dove la popolazione è circa 600-650 mila persone. Perché? Questa è la città di Tirupur. Hai sentito parlare di Tirupur? È una città tessile, una città orientata all'esportazione. Tutti qui, i loro redditi sono almeno tre volte tanto quelli di tutti gli altri nello Stato. Quindi, se arrivano dei soldi, si ubriacheranno e rimarranno nei fossi. Il 42% della popolazione del Tamil Nadu sta diventando diabetica. Quindi, se arrivano dei soldi, comprerai malattie. Quindi, se il benessere economico non si traduce in benessere umano, non ha senso. Il passaggio dalla povertà all'agiatezza è un viaggio difficile. Che sia per un individuo o una società o una nazione, è un compito difficile. In salita. Dopo che arrivi lì, li ingannano. Lavori duramente tutta la vita e arrivi lì. E tutto ciò che ottieni è una malattia. Tutto ciò che ottieni sono dipendenze. Tutto ciò che ottieni è sofferenza. Tutto ciò che ottieni sono menti infrante. Tutto ciò che ottieni è stress. È un grande inganno. Quindi, quando le persone raggiungono il benessere economico, anche il benessere umano dovrebbe accadere. Se questo deve accadere, senza un elemento di dimensione spirituale in loro, non può accadere. Potrebbero seguire un processo spirituale organizzato, oppure da soli. Potrebbero aver trovato qualcosa, ma senza un elemento di processo spirituale non c'è modo che qualcuno possa tradurre il benessere economico in benessere umano. Questo deve accadere. Mentre accade lo sviluppo economico, è molto importante che parallelamente le possibilità spirituali siano ampiamente disponibili per ogni essere umano. Altrimenti la vita ti ingannerà in un modo così amaro.